a te, oh Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, uniti dalle vostre case in questa Santa Messa nella solennità di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria e custode della Sacra Famiglia, custode del Redentore. Vogliamo in questo momento moltiplicare le nostre preghiere. Ci sono tanti ammalati che ci chiedono preghiere, tanti agonizzanti. Ci sono dei defunti intorno a noi, anche sacerdoti carissimi, defunti in questa giornata, nella nostra diocesi, nella diocesi vicina a Dilodi e nel territorio particolarmente bergamasco, bresciano, nella nostra amata terra di Lombardia. Al termine di questa Santa Messa reciterò per voi la preghiera a San Giuseppe, quella preghiera che è stata composta da Leone XIII per implorare da Dio il termine delle pestilenze, il termine anche di quello che erano i peccati e gli errori di allora. Siamo alla fine del 1800. Guardando a San Giuseppe, noi vogliamo questa sera domandare la sua fede e la sua forza. San Giuseppe è un credente, un uomo di Dio, che davanti a un piano misterioso del Signore rivelato nel sogno, ecco, compie la sua scelta, accetta, si fida di quello che è accaduto in Maria. È accanto alla Madonna nella nascita di Gesù Bambino e soprattutto abbiamo sentito nel Vangelo difende il Redentore, lo porta via perché Erode lo vuole uccidere, poi ancora Archelao lo riporta ancora in Egitto. Ecco, il custode del Redentore. Questo verbo custodire è un verbo che ci aiuta questa sera a pregare. E vorrei usare le parole di Papa Francesco. Voi sapete che Papa Francesco è devotissimo di San Giuseppe. Deve la sua vocazione nel lontano 1953, aveva 17 anni e quasi per un impulso sente di entrare in una chiesa vicino al suo quartiere dedicata a San Giuseppe. E lì si sofferma davanti al sacramento e poi sente un impulso a confessarsi. E lì nasce la sua vocazione e chiude questa visita alla Chiesa soffermandosi davanti a San Giuseppe. Il suo ministero di pastore della Chiesa universale inizia proprio oggi come 2013, 19 marzo. E nell'omenia dell'inizio del suo ministero, sottolineava Papa Francesco questo aspetto di San Giuseppe della custodia del Redentore. Sentite che cosa diceva in quella Santa Messa di inizio del suo ministero. Giuseppe è custode perché sa ascoltare Dio. Si lascia guidare dalla sua volontà. E proprio per questo è ancora più sensibile alle persone che gli sono affidate. Sa leggere con realismo gli avvenimenti. È attento a ciò che lo circonda e sa prendere le decisioni più sagge. In Lui vediamo come si risponde alla vocazione di Dio. Con disponibilità, con prontezza, ma vediamo anche qual è il centro della vocazione cristiana. Il centro è Gesù Cristo. Custodiamo Cristo nella nostra vita per custodire gli altri, per custodire il creato. Ecco, carissimi, mi sembra che questo è un messaggio che arriva a ciascuno di noi in questi giorni di pandemia, in questi giorni di forzato, riposo e chiusura nella casa. Custodire Cristo in noi, non permettere che nessun pensiero, che nessuna tentazione, che nessun momento di scoraggiamento ci possa portare via Cristo, come ha fatto San Giuseppe, che non ha permesso che Cristo venisse ucciso bambino da Erode, che ha fatto i suoi sacrifici, che ha portato via la famiglia, è andato via dai suoi luoghi abituali, in esilio. Custodire Cristo nella nostra vita. Cristo vivo in noi, Cristo risorto, presente in mezzo a noi. Questo ci permette di custodire innanzitutto il nostro cuore, che non deve essere sequestrato. Certo, fratelli e sorelle, capitano i momenti di scoraggiamento, però stiamo attenti a non rimanerci sopra. Se ci rimaniamo sopra, lavora il demonio. Subito lasciamo passare, come voltare la pagina e ritorniamo ad avere Cristo al centro del nostro cuore. Uno sguardo al crocifisso, una lettura del Vangelo, un pensiero alla Chiesa. Ecco, Cristo, custodire Cristo, come San Giuseppe. E poi viviamo la nostra vita normale, perché se custodiamo Cristo in noi, come ci ha detto il Papa, possiamo custodire anche la vita degli altri. Penso in questo momento alla preghiera incessante per gli ammalati. Custodire i nostri ragazzi, i nostri bambini che dobbiamo sostenere, i nostri anziani. E questo diventa anche per noi quella telefonata gratuita, fatta a quella persona, magari che sappiamo è da sola. Diventa magari il dare quel messaggio a quell'altra persona che magari si trova a curare un ammalato, a quel medico, a quell'altra. Ecco, custodire Cristo per custodirci tra di noi. Mi sembra un messaggio molto bello. Chiudo questa meditazione con una preghiera scritta proprio da Papa Francesco, rivolta a San Giuseppe. Glorioso Patriarca San Giuseppe, il cui potere rende possibili le cose impossibili. Vieni in mio aiuto in questo momento di angustia e difficoltà. Prendi sotto la tua protezione le situazioni tanto gravi e difficili che ti affido, affinché abbiano una felice soluzione. Ecco, sia nostra questa preghiera, mentre con fede ci abbandoniamo alla Divina Volontà.